Siamo noi la grande bellezza, siamo noi la grande bellezza. Cari amici, il fatto è che ieri venerdì 10 ottobre, ieri venerdì 10 ottobre, perché oggi è sabato 11 ottobre 2014, ieri venerdì in tutta Italia hanno manifestato i giovani, i giovani studenti delle scuole e dell'università. Io ho visto la cronaca televisiva e ho visto che questi giovani che sfilavano nelle città d'Italia e che protestavano per tante questioni e avevano tanti striscioni, su uno di questi striscioni c'era scritto siamo noi la grande bellezza. Dio quanta tenerezza che mi è venuta, mi è venuta cari amici, quanta tenerezza sentire questi giovani che dicevano siamo noi la grande bellezza. E mi è venuto in mente che ai tempi del povero Duce c'era una canzone che faceva rima con la locuzione siamo noi la grande bellezza, era una grande canzone e diceva così, giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza mi pare, giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza. E questi giovani neanche lo sanno che ai tempi del povero Duce, cioè tra 1920 grossomodo e 1945, i giovani d'Italia cantavano, tanto per consolarsi, la canzone intitolata, no, intitolata, la canzone che aveva il titolo di giovinezza e all'inizio diceva così, giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, primavera di bellezza, per cui poi recentemente abbiamo avuto... e prima c'è stato pure la canzone, la canzone del povero Duce che si cantava ai tempi del povero Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza. E se ci riesco io questa canzone ve la metto come link nel riassunto di questo video, vediamo se riesco a farlo senza violare la normativa sul copyright, va bene? Ok cari amici, mi hanno fatto tanta tristezza, mi hanno fatto questi giovani, perché ai miei tempi, ai giovani dei miei tempi non gli passava neanche per l'anticamera del cervello di ritenersi siamo noi la grande bellezza, però la canzone sì, che era quella dei giovani precedenti la mia generazione, perché per chi ancora non lo sapesse, io sono nato il 7 febbraio 1940, per cui il prossimo febbraio, qui tra pochi mesi, compio 75 anni, però quando io sono cresciuto non si cantava più la canzone Giovinezza, Giovinezza, primavera di bellezza, c'erano altre canzoni qual falange di Cristo Redentore la gioventù cattolica in cammino e continua, qual falange di Cristo Redentore, la falange, capito? La falange macedone, macedone di Alessandro Magno e con la falange macedone Alessandro Magno ha conquistato tutto lo sterminato impero romano, poi dopo i romani hanno fatto un impero altrettanto grande e più dura duro, ma non c'avevano la legione, non c'avevano la falange, c'avevano la legione, insomma ai miei tempi non si cantava più Giovinezza, Giovinezza, primavera di bellezza, si cantava invece qual falange di Cristo Redentore la gioventù cattolica in cammino, eccetera, e a noi non ci veniva in mente di essere la grande bellezza, per esempio l'Italia era stata molto bombardata, abbastanza bombardata, non tanto quanto la Germania che sia chiaro, perché mai nazione a questo mondo, forse tranne il Giappone che ha avuto due pillone nucleari, forse tranne il Giappone, mai nessuna nazione a questo mondo nel corso della storia è stata distrutta quanto fu distrutta la Germania nel corso della seconda guerra mondiale, a seguito di continui ininterrutti bombardamenti da parte delle flotte aerei inglesi e americane che si susseguivano in continuazione e a una sconsiglia, a una sconsiglia, a una sconsiglia, a una sconsiglia che non avremmo riduci noi, nati nel 1940, 41, 42, alla ricerca, a una sconsiglia, a una sconsiglia, a una sconsiglia che noi giovani eravamo la grande bellezza, perché ieri i giovani avevano gli striscioni dove dove appunto c'era scritto siamo noi la grande bellezza siamo noi la grande bellezza e che cosa siamo? siamo da buttare via, vero? lo so che siamo da buttare via lo so, lo so però io mi difendo cari ragazzi io mi difendo perché io mostro sempre questa mia opera la mostro sempre questa mia opera che adesso ho in tutto il mondo in lingua inglese ed io, io, se la fino massoni non sono meno vanitoso di voi voi dite che siete voi la grande bellezza e io dico che quest'opera è la nuova Bibbia dell'umanità e adesso la stanno comprando in tutto il mondo perché si trova sul grande web store sul web store mondiale iTunes della Apple è un'opera è in lingua inglese prima è apparsa in lingua italiana prima è apparsa in lingua italiana sbaglio sempre è questa, è questo, è questo from matriarchi to patriarchi in lingua inglese vedete, in lingua inglese è l'ultima delle mie opere le mie opere poi sono tante tante, molteplici vedete che spettacolo, cari amici comunque, anche se sono meno vanitoso di voi anche se sono vecchio voi vi definite la grande belletta dite che siamo noi la grande bellezza io mi invito a dire che questo ebook in lingua inglese ora sta sulla grande piattaforma sul grande web store iTunes della Apple e se voi cari amici oltre, giovani che siete giovani oltre alla grande bellezza volete anche la felicità beh, dovete leggere quest'opera capito? basta un click per scaricarlo sul vostro Mac basta un click perché la trovate e ce n'è per tutti la trovate sul grande web store iTunes della Apple capito? from matriarchi to patriarchy ecco cari amici di non poter dire siamo noi la grande bellezza non me ne frega un fico secco non me ne frega sto bene così con i miei quasi 75 anni la mia pensioncina non tornerei indietro non tornerei indietro me ne frego dalla grande bellezza capito? me ne frego sto bene così io vi capisco cari giovani vi capisco vi capisco benissimo voi vi definite la grande bellezza per rimuovere la tristezza la disperazione la disperazione purtroppo purtroppo mamma e papà purtroppo mamma e papà ci mettono sempre al mondo dicono che lo fanno per un atto d'amore dicono che lo fanno per un atto d'amore però non ci chiedono il permesso voi trovate assurdo vero? un'argomentazione che sostenga che si deve chiedere il permesso ai bambini prima di nascere lo so che la trovate assurda però però non dobbiamo dimenticare che noi viviamo nel grande occidente cristiano comunque nel grande occidente che il grande occidente conosce tre grandi divinità monoteistiche e patriarcali che sono Yahweh e gli ebrei Gesù Cristo dei cristiani e Allah degli islamici e si dice che questa grandissima potentissima divinità abbia creato l'umanità Adamo ed Eva per amore per amore e poi questa divinità avrebbe detto ad Adamo ed Eva crescete e moltiplicatevi come dire che il Padre Eterno ha suggerito ad Adamo ed Eva di comportarsi alla stessa maniera dello stesso Padre Eterno cioè come il Padre Eterno aveva creato Adamo ed Eva senza chiedergli il permesso ad Adamo ed Eva di venire creati e e così Adamo ed Eva avrebbero dovuto comportarsi come il Padre Eterno mettere al mondo i bambini senza chiedere il permesso ai bambini di venire al mondo quindi la mia argomentazione sul piano logico è valida perché il Padre Eterno prima di creare Adamo ed Eva un mucchietto d'argilla lì un mucchietto d'argilla la costola e via di seguito poteva chiedere al mucchietto essendo il Padre Eterno onnipotente onnipotente vuol dire che può fare quello che vuole gli poteva chiedere al mucchietto d'argilla guarda io ti sto trasformando in un essere umano ti spiego pure che cos'è un essere umano vuoi tu mucchietto d'argilla restare un mucchietto d'argilla o venire trasformato in un essere umano e Dio onnipotente poteva operare in maniera che il mucchietto di argilla rispondesse sì non voglio restare più un mucchietto d'argilla ma voglio diventare un essere umano oppure no no poteva dire no no io sono felice di essere un mucchietto d'argilla beh tornando a mamma e a papà mamma e papà ci raccontano ci raccontano che ci hanno messo al mondo per un atto d'amore lo chiamano un atto d'amore e costa tanto caro questo atto d'amore cari ragazzi perché voi vi definite siamo noi la grande bellezza ma quanto gli costate caro cari ai vostri genitori quanto glielo fate pagare caro l'atto d'amore che hanno compiuto per mettervi al mondo quanto io credo che ci sono pentiti quasi tutti i genitori di aver messo al mondo dei figli ma è naturale che sia così è naturale che sia così è naturale e potersi pure che il padre eterno si è pentito poi di mettere al mondo l'umanità può anche darsi io sto di certo che l'umanità nel suo insieme si lamenta sempre chissà perché l'umanità si lamenta sempre e non ci si venga a dire che l'umanità è felice di stare al mondo non ce l'ho perché si lamentano tutti comunque vi citate vedete soltanto gente che si lamenta sta per tutto e la gente si lamenta sempre sempre le cose non sono mai giuste non sono vabbè cari amici la grande bellezza la grande bellezza eh la scuola l'università cari eh la scuola e l'università cari amici cari amici quante cose potrei dirvi sulla scuola e sull'università vabbè io nella scuola ci sono stato come lavoratore ovviamente non come studente come lavoratore ci sono stato per 40 anni quindi la scuola la conosco come si può dire come le tasche dei miei pantaloni capito sono stato per tanti anni professore di filosofia e storia nei licei poi dopo ho fatto i concorsi e sono diventato preside di ruolo di licei classici scientifici e adesso sono preside merito si dice preside merito vuol dire uno che lo è stato prima preside merito in pensione ho la mia pensioncina e non farei a cambio non farei a cambio con voi non tornerei indietro per tutto l'oro del mondo per carità per carità per carità cari amici tenendo 65 anni la mia pensioncina sono alla fine della mia vita io ho già detto in tanti video che non l'ho chiesto a nessuno di nascere non l'ho chiesto a nessuno di nascere se fosse stato per me io avrei preferito non nascere capito va bene va bene cari amici comunque quando io morio di certo vivrà quest'opera che io definisco ed è giusto che sia così io definisco la nuova bibbia dell'umanità perché con quest'opera quando tutta l'umanità avrà letto quest'opera allora la felicità sarà scesa su tutta l'umanità ok cari amici grazie a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni